Allora, innanzitutto spieghiamo che per far parte dell'albo dei volontariati cittadini non occorrono particolari competenze, o meglio, se qualcuno di voi ha delle competenze particolari, esempio banale... Nasce qui Castellamonte il gruppo di volontariato comunale. Di cosa si tratta e com'è nata questa idea? Allora, in realtà in Comune Castellamonte esiste una delibera inerente a un gruppo, un albo di volontari comunali fin dal 2018, però abbiamo deciso di concretizzare effettivamente questa novità. Quindi iscrivere, cercare di contattare un numero di persone castellamontesi che vogliono mettersi a disposizione della propria comunità. È un gruppo che si occuperà non solo di volontariato sociale, anche se sarà un pochino il tema principale di questa serata, ma anche di cultura, di manutenzione degli spazi verdi, di ambiente e di quant'altro. Inoltre è auspicabile che arrivino delle proposte anche dai cittadini stessi che sicuramente verranno valutate volta in volta da parte dell'amministrazione. Quindi è un gruppo di volontariato che aiuterà l'amministrazione comunale a gestire quello che è il bene comune, quindi la città che è di tutti. Esattamente sì, a gestire il bene comune e ad aiutare gli altri cittadini più bisognosi, meno fortunati, che comunque si trovano in stato di necessità. I primi due progetti che io spero possano partire nell'arco di poche settimane sono un taxi sociale, quindi un trasporto per svolgere pratiche burocratico, accompagnamenti similari per cittadini in Castellamonte, appunto che non hanno un'autovettura e non possono permettersi di pagare un trasporto. Abbiamo ricevuto una proposta, una richiesta di aiuto più che altro da parte della radioterapia dell'ospedale di Ivrea che ci ha chiesto la possibilità di trasportare dei pazienti oncologici di Castellamonte a Ivrea appunto per le cure. E noi speriamo di poter attivare anche questo servizio per quanto sarà molto oneroso, quindi ci servono molti volontari. Quali sono i requisiti richiesti per far parte di questo gruppo di volontariato e come aderire? Nessuno o quasi, nel senso i requisiti richiesti sono quelli richiesti anche ai candidati alle elezioni, né più né meno, quindi godere dei diritti elettorali, non essere in corsi in condanne penali ed essere in buono stato di salute, ma semplicemente certificabili dal proprio medico di base. Tutti sono ben accetti, chiunque può essere utile, quindi indipendentemente dalle competenze di ciascuno e dalla disponibilità oraria, veramente può essere un grande aiuto. Quindi invito tutti, indipendentemente da età e formazione, a proporsi, perché di sicuro ci sarà posto anche per loro. Per aderire è a disposizione un modulo, sia sul sito del Comunica Stellamonte, che pubbliciteremo ulteriormente a partire dalla prossima settimana. Gli intervenuti alla serata di questa sera lo troveranno qua in formato cartaceo, potranno già compilarlo, dove vengono richiesti i dati, i propri recapiti, e dopodiché si verrà inseriti in un gruppo WhatsApp per una veloce comunicazione, in una mailing list. Da questo, di volta in volta, si organizzeranno le varie attività e si programmeranno delle riunioni a cadenza presumo trimestrale. Il gruppo di volontariato comunale contempla anche quello che è il volontariato culturale. Di cosa si tratta? Sì, il Comune di Castellamonte, per storicità e per vocazione, organizza sempre numerosi appuntamenti culturali di varia natura. Il più importante ovviamente è la mostra della ceramica. Tanti di questi eventi, soprattutto le mostre, sono tenute in piedi anche dai volontari che spendono il loro tempo per ravvivare la vita culturale castellamontese e quindi garantiscono l'apertura della mostra o delle mostre negli orari che gli organizzatori e l'amministrazione decidono, acquisiscono competenza restituendone in parte ai turisti che vengono a visitare e a scoprire le ceramiche di Castellamonte. Così come le mostre, sono tanti volontari che danno una mano. Penso al Consiglio di Biblioteca che ogni venerdì sera cerca di organizzare un appuntamento culturale e letterario nel locale del Centro Congresso I Martinetti e in generale i gruppi di volontariato sono l'ossatura vera della comunità e garantiscono la buona riuscita di qualsiasi tipo di manifestazione.